Ciao maghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Venite con me ad aprire nuovi Kinder Joy e a scoprire un magico segreto. Innanzitutto, se non sei iscritto al canale, iscriviti subito per non perdere i nuovi aggiornamenti e nuovi video. E non dimenticarti di attivare la campanella, c'è già un video sul canale dedicato ai Kinder Joy. Nel mentre che spacchettiamo, ragazzi, voglio mostrarvi questa immagine. Ebbene sì, ho fatto una scoperta sconvolgente. Esiste il diorama a forma di libro di Harry Potter per contenere tutte le sorprese. Io lo trovo super carino. Inoltre, sulla costina è presente la data 2023, quindi vi lascio con questo dubbio. Potrebbero esserci nuovi Funko, una nuova collezione di Funko? Potrebbero essere dedicate alla Camera dei Segreti? Chi lo sa? Io vi mostro le sorprese che ho trovato all'interno e vi lascio al prossimo video.